ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del let's play di minecraft nella scorsa puntata ho costruito un enorme testa di drago per fare un ingresso nel land chiaramente non avevo finito il lavoro lo termineremo in questo episodio ora sono qui nel mio magazzino perché volevo recuperare alcuni materiali che mi serviranno oggi quindi iniziamo subito ok ragazzi sono entrato qui nel land come vedete la parte che avevo costruito l'altra volta non è stata cancellata quando si è ricreata praticamente questa piattaforma allora saliamo sulla scala perché devo mostrarvi qualche piccola modifica che ho apportato alla statua che stavo facendo allora innanzitutto ho messo questa specie di corno perché sono andato a vedere un po le teste dei draghi e hanno varie protuberanze tra cui una sopra il naso poi ho modificato leggermente l'apertura della bocca qua e poi volevo fare una prova visto che me lo avete suggerito in tanti nei commenti mi avete detto di mettere dei denti fatti col quarzo anziché che con questi blocchi secondo me non stanno benissimo però voglio comunque provare a farlo allora mettiamo questo e questo così e ovviamente dobbiamo anche modificare quelli qua sotto quindi questi due allora vediamo un po va bene ecco qua vediamo un po il risultato perché in realtà essendo una statua dovrebbe essere tutta dello stesso materiale ma non lo so non stanno malissimo ragazzi quindi per il momento posso anche lasciarli così poi al limite è una modifica molto semplice da fare e la posso fare in un altro momento allora adesso volevo andare a sostituire questi blocchi che ci sono qua intanto l'enderman è venuto a vedere il mio lavoro e mettere quelli per gli occhi che avevo scelto allora l'altra volta vi parlavo della glowstone però effettivamente secondo me le sea lantern quindi le lanterne del mare stanno molto bene e sì sapete anche perché perché hanno questa specie di curva quindi stanno molto meglio e anche qua davanti adesso l'effetto si vede poco però sì sì stanno decisamente meglio ragazzi quindi perfetto direi di sostituire anche quest'altro allora andiamo qua ok mettiamo questo e mettiamo la sea lantern che fa anche luce ok sì sì ci sta un botto ragazzi ci sta un botto ok proseguiamo un attimino con la costruzione adesso devo andare avanti e preparare la parte del collo che deve ovviamente arrivare fino a qua allora qui ho portato anche dei vetri perché volevo fare questa parte del collo anche aperta in modo che si potesse vedere attraverso quando si scende allora io salirei qua un attimo e metterei qua sopra un vetro di questi così poi qua un blocco intero quindi qua anzi direi di metterne due qua sopra metterei quello lavorato così quindi uso la terra così mi dite che ho usato solo gli altri blocchi adesso uso la terra ok bene 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 fatemi vedere un attimo il risultato ok ci sta ci sta ragazzi ci sta ok poi ovviamente qua dovremmo scendere con il vetro quindi andrei anche a metterne un altro qua così adesso voglio arrivare quasi fino in fondo con il collo poi da questa parte qua scendere con questo blocco qua e mettere un altro vetro qua ok poi qua dovremmo scendere ancora di uno e quello che ho pensato di fare è di avere comunque una specie di montagnetta di endstone perché questo fa capire che il drago sta spuntando fuori dalla diciamo dalla terra dalla endstone quindi non è semplicemente piatto qua quindi volevo fare una specie di montagnetta ok il collo direi che ci può stare ci può stare poi qua andiamo a mettere un blocco così no non qua un blocco così e un altro blocco così ok quindi si stringe un attimino il collo poi qua devo vedere un attimo come fare va bene ragazzi direi che qua ci può stare adesso vado a fare la stessa cosa dall'altra parte allora volevo proseguire anche un pochino da questa parte allora utilizzo sempre questi blocchi che appunto sembrano le squame del nostro drago e andiamo a mettere tre blocchi così non in questo tipo così uno due e tre in orizzontale perfetto poi qua in corrispondenza di questo mettiamo uno scalino ok qui sopra mettiamo questo blocco intero qua ok e poi per far sembrare che ci siano degli spuntoni adesso non è così semplice da rendere la cosa allora come si fanno ah no devo farlo con la crafting table allora per appunto far sembrare che ci siano appunto degli spuntoni delle spine non so come poterle definire del drago qua sopra vado a mettere questi blocchi così allora in corrispondenza dei vari vetri ok così vedete in questa maniera sembra appunto che ci siano delle specie di spine poi andiamo avanti un attimino a costruire ancora allora qua sopra metterei un altro blocco intero perché dobbiamo avere lo spazio sufficiente per non in pratica sbattere la testa qua sopra ok quindi qua scende benissimo fatemi vedere ok qui scende con questo poi va così così qua no non mi piace questo blocco qua adesso devo vedere come farlo ragazzi sistemo un attimino qua sotto allora preferisco andare avanti qua allora qui mettiamo un blocco intero spero che l'enderman non venga qua ok perché è un blocco intero di questo tipo così ok poi qua possiamo mettere un altro blocco di questi ok vediamo un po' si dovrei arrivare a non sbattere la testa e quindi ci siamo abbastanza direi ok ok anche qua sotto però volevo continuare un attimo ragazzi allora farei con questo 1 2 3 e anche 4 scusa puoi spostarti ok perfetto bene così siamo arrivati fino in fondo ok vado come al solito a riprodurre la stessa cosa dall'altra parte perché se non continuo ad essere simmetrico è un problema dunque volevo proseguire un attimino con la scala ma mi sono accorto che dovevo spostarla di un blocco più verso questa direzione per fortuna qua avevo lasciato un blocco l'altra volta e quindi la scala funziona ugualmente per fortuna altrimenti avrei dovuto spostare tutto quanto allora adesso proseguiamo un attimo qua qui mettiamo questi blocchi qua per fare la curva praticamente del collo e qua iniziamo a scendere allora mettiamo un blocco qua un blocco qua un altro qua e un altro qua ok adesso devo continuare a scendere in questa maniera quindi vado anche a rompere i vari blocchi qui ovviamente ci sarà tutta la parete che sarà di colore viola chiaramente allora scendiamo ancora vedete che siamo già sotto il livello del terreno quindi secondo me la cosa può funzionare secondo me può funzionare allora andiamo giù non so se qua tenerla bassa così è ma al limite mettere dei mezzi blocchi adesso ci penso allora andiamo giù arriviamo fino in fondo ok anche qua ragazzi è un lavoro abbastanza lungo e se avessi la possibilità di usarla creativa naturalmente questo lavoro si ridurrebbe tantissimo ma siamo in una serie survival e dobbiamo tenere questa regola di utilizzare il survival ok vediamo un po' perfetto direi che così ci siamo sì adesso lo faccio anche dall'altra parte allora distruggiamo bene questi blocchi qua allora ciao enderman non vorrei avere a che fare con te in questo momento perché non ho tempo di darti retta quindi stai lì tranquillo che non ti guardo perché lo so che sei per maloso che se ti guardo male poi ti ribelli subito allora mettiamo questo ragazzi io che parlo con gli enderman veramente mi rendo conto che non è tanto normale come cosa allora andiamo qua perfetto sono molto concentrato su questa costruzione ragazzi perché come avete visto è facile sbagliare e infatti l'altra volta mi ero sbagliato con quel blocco lì spero veramente che funzioni lo stesso tutto quanto ma credo di sì ok siamo arrivati fino in fondo certamente oh ragazzi bellissimo abbiamo la nostra scala anche qua dovremo andare a togliere un attimino questa pietra e ovviamente sistemare anche il soffitto ok adesso possiamo proseguire un attimino con questa parte qua in modo da chiudere allora proseguiamo un attimino qua dietro ho messo questi due blocchi allora io farei così tanto qua abbiamo visto che la scala è a posto qua sopra metterei dei blocchi così e così perché dobbiamo fare un po' la curva di questo collo in questa maniera qua ok mi piace poi qua non so adesso bene che blocco mettere quindi uso questo metterei un blocco così e anche di qua vedo di lavorare già in modo simmetrico perfetto qua possiamo chiudere con questo blocco poi vado a togliere ovviamente quelli che non servono e qua potrebbe esserci questa curva così ci può stare ci può stare allora qua invece potrei mettere dunque vediamo un po' un blocco così ok perfetto e qua potrei quasi no lo lascerei ah qua lo sostituirei sì magari con un blocco così ok però lì rimane aperto però forse lì sotto posso andare a mettere un blocco qua forse sì perché tanto fa parte del soffitto quindi potrei chiudere così ok sì va bene allora non è facile ragazzi non è assolutamente facile quello che sto cercando di fare allora poi qua saliamo quindi mettiamo tre blocchi così bene e voilà qua possiamo proseguire con la curva così ok poi già che ci sono ne provo a mettere un'altra sopra vediamo se riusciamo ad unirci in modo corretto lì così ok poi qui andrei alla stessa altezza altrimenti diventa troppo non con la curva giusta qua potrei salire di mezzo e direi che ci siamo abbastanza vediamo un po' la curva del collo allora sì chiaramente la testa qui adesso sarà più alta ci saranno le corna quindi adesso sembra sproporzionata ma ci siamo abbastanza allora ragazzi sistema un attimo la cosa off camera perché devo vedere bene e poi proseguiamo dunque sto proseguendo con il lavoro piano piano sto aggiungendo qualche blocco qua e là facendo qualche piccolo ritocco come vedete ho iniziato a fare questa specie di montagnetta di handstone in modo da mostrarvi un pochino come viene fuori la testa del drago adesso direi di andare a completare questa parte in alto allora io salirei di qua ho fatto apposta i blocchi così è più semplice salire poi andrei a mettere qua sotto un blocco di quelli lavorati eccoli qua ce li ho lo metterei in questa direzione ok poi lo contornerei con questi scalini qua completamente lo farei quindi metterei anche quelli ad angolo così ok andiamo di qua e anche qua bene poi qui direi di mettere uno scalino normale quindi così sì bene e qua degli scalini messi al contrario cioè uno così e uno così ok adesso devo capire qua bene come chiudere però direi di mettere secondo me un mezzo blocco quindi farei così mettiamo questo ah no possiamo mettere il blocco intero perfetto allora il blocco intero ce l'ho sì ok quindi blocco intero così e anche qua direi un altro blocco intero perfetto anche di qua chiudiamo allora abbiamo detto blocco intero qua e blocco intero qua ok abbiamo chiuso ragazzi abbiamo chiuso vediamo un pochino a distanza ok ci siamo adesso devo fare le due corna e delle protuberanze laterali ok quest'ultima cosa che andremo a fare adesso vedrete cambierà completamente l'aspetto della testa allora andiamo a mettere un blocco qua e direi anche un blocco esterno così poi qua possiamo andare a mettere un blocco intero e qua sopra facciamo una cosa abbastanza semplice direi di fare così poi mettere un altro blocco così un blocco sopra ok e direi un altro blocco qua in questa maniera così poi a fianco oddio no ma perché no non mi attaccate adesso no raga no ma perché cosa cosa gli è saltato in mente tutto in un colpo basta eh avete finito ok perfetto stavo lavorando e questi vengono qua a scocciarmi allora adesso andiamo di qua esternamente perché devo mettere oddio sono caduto dei blocchi adesso vi spiego come eh allora qua come se fossero altre protuberanze quindi farei così e così e toglierei questo ok ragazzi voglio vedere l'effetto da sotto perché vedrete che ora l'aspetto della testa sarà completamente diverso guardate ma che scocciatura oh vedete ragazzi guardate adesso sembra veramente la testa di un drago perché appunto abbiamo anche questa specie di corna adesso lo andiamo a fare anche dall'altra parte poi credo che l'aspetto estetico esterno sia finito ed ecco qua ragazzi la visuale da sopra ora posso scendere un pochino e vi faccio vedere anche la visuale dal fianco ecco qua facciamo un giro completo di tutta quanta la costruzione vedete ho aggiunto ancora questa terra per fare questa specie di mucchio anche di qua dovrò sistemare e da questa parte siamo un po' troppo vicini per capire la costruzione quindi mi allontano un attimo andiamo per esempio qua ragazzi guardate secondo me è venuta un'ottima cosa a me piace veramente tantissimo adesso io qua sotto devo sistemare ovviamente questa specie di caverna chiudere un pochino meglio però ci siamo quindi ora mi preoccupo di sistemare l'interno perché la scala come vedete non è a posto ci sono ancora dei blocchi da sistemare qui da rivestire è un lavoro che posso fare tranquillamente off camera tanto devo solo sostituire dei blocchi e poi però voglio andare ad illuminare un pochino l'interno utilizzando questi blocchi qua in modo da fare delle specie di luci adesso vediamo dove metterle pensavo di metterle quasi qua sul soffitto così in questa maniera abbiamo anche un'illuminazione interna piccolo aggiornamento ragazzi mentre stavo sistemando le cose mi sono accorto che la mandibola inferiore era un po' troppo in avanti quindi l'ho spostata indietro di un blocco e devo dire che il risultato ora è molto molto meglio rispetto a prima quindi direi che ora ci siamo veramente altro piccolo aggiornamento sto preparando la scala come vedete ho fatto il soffitto e ho messo queste come luci quindi direi perfetto mamma mia ragazzi sta venendo un ottimo lavoro dovrò fare anche un pochino di lavorazione qua su questa parete perché è troppo piatta però per il momento vado a rivestirla tutta con questo blocco dunque ragazzi finalmente il lavoro è terminato questa è la testa del drago che spunta dal terreno ve la faccio vedere anche dall'altra parte di qua direi ok eccoci qua ragazzi direi che il lavoro si può considerare terminato ora vi faccio vedere anche l'interno come l'ho decorato qui si entra dalla bocca ecco qua ho fatto questa specie di gola utilizzando questi blocchi per illuminare e qui ho messo questi altri si scende fino in fondo e si arriva nella stanza dove si spona quando si entra nel land da questa parte c'è il corridoio che porta poi alla farm di enderman che andrò a sistemare in un altro momento direi che tutto quanto è secondo le mie aspettative anche se ci sono stati gli enderman che ogni tanto hanno voluto controllare meglio che cosa facessi qua ho messo ecco anche qua questi blocchi per terra che sembrano una specie di sentiero poi magari proseguirò anche questo sentiero per arrivare al centro di quest'isola ragazzi direi che possiamo chiudere qua a questo punto ci vediamo sulla torre della mia casa per rispondere a una delle vostre domande ed eccomi qui ragazzi sulla torre della mia casa per rispondere a una delle vostre domande quella di oggi me la invia TheGast03 che mi chiede Tec quale scuola hai frequentato dopo le medie? allora ragazzi dopo le scuole medie ho frequentato il liceo scientifico a indirizzo informatico perché io amo tantissimo l'informatica mi piace lavorare sui computer e questo l'ho fatto fin da quando ero piccolo e quindi ho pensato di continuare anche durante gli studi del liceo come andavo a scuola? abbastanza bene diciamo che privilegiavo le materie scientifiche piuttosto che quelle umanistiche però ragazzi a scuola bisogna studiare e mi raccomando fatelo anche voi e quindi ho dovuto farmi piacere anche le altre materie bene ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio vi ricordo come sempre in descrizione tutti quanti i link per raggiungermi sui vari social mi raccomando iscrivetevi a Telegram e anche ad Instagram e ovviamente iscrivetevi anche al canale se non lo avete ancora fatto per poter rimanere aggiornati su tutti quanti i nuovi video a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti mi raccomando iscrivetevi anche al canale